L'UNICLEF, centro di formazione professionale per estetiste e parrucchiere, inaugura la sua nuova sede in Lungadige e Capuleti 11 a Verona. Tra i presenti, il sindaco Flavio Tosi, il presidente di AGSM Fabio Venturi e il senatore Stefano Bertacco. È un'opportunità di lavoro vera, perché rispetto a altri corsi, altri studi, che ovviamente con scelte diverse impongono più anni e quindi una diversa impostazione. Chi vuole trovare lavoro subito, attraverso questo istituto, lo trova, perché è un dato statistico che da un punto di vista occupazionale si vanno a occupare di settori dove davvero lavoro c'è. Una bella esperienza anche per noi, vedere una scuola professionale di questa qualità, prima di tutto perché forma ragazze e ragazzi ad una professione nella speranza che poi riescano a trovarla appena fuori da qui. E questo è l'obiettivo di tutti, cioè cercare di creare più occupazione. Però vedere la qualità della formazione, penso che possano essere ottimiste e di poter immaginare un proprio futuro professionale, quasi certo. Questa è la cosa più importante, per cui benvengano queste scuole e benvengano a cercare in tutti i modi di creare più occupazione possibile. Sappiamo spesso che molti di loro tendono magari ad abbandonare il percorso di studi e questo connubio fra formazione e lavoro, quindi la possibilità di trovare poi nel futuro sbocchi importanti per la loro vita, credo devono essere seguiti, motivati, incentivati da parte di tutti. Noi quest'anno vantiamo sette primi anni di cui sei in estetica e uno in acconciatura con le nostre due attività. L'UNICLEF che si occupa di obbligo formativo, quindi di corsi finanziati per allievi che escono dalla terza media e CLEF che invece si occupa di post-obbligo, quindi allievi già maggiorenni che intraprendono il percorso di qualifica. Tutte le informazioni sui corsi sono disponibili al sito www.luniclef.it o telefonando al numero 045 8010803.